buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale con il video di oggi va ad inaugurare una nuova playlist e dedicata interamente il trading bot automatici e trading bot manuali per il video in questione userò il trading bot a griglia viz gap sarà un video panoramica il suo funzionamento andiamo a vedere quanto costa perché è un bot su abbonamento e come collegarlo a bainas e aderop trading seguiranno poi altri video dettagliati dedicate a questo bot ma soprattutto anche ad altri bot magari meno impegnativi economicamente rispetto a biz gap andiamo a vedere il suo funzionamento dopo la sigla mese di settembre il mese di ottobre inaugurerò due playlist nuove uno dedicato ai trading bot sia automatici che manuali è un'altra dedicata al copy trading con il video di oggi va ad inaugurare la playlist dei trading bot e vi voglio parlare del più famoso ovvero biz gap è il più famoso è anche uno dei più semplici perché basta impostare alcuni parametri collegare le api agli exchange per poter operare con questo bot un altro vantaggio che ultimamente ha inserito all'interno della sua operabilità è la possibilità di collegarsi non solo alle change stranieri ma anche aderop trading questo ha un vantaggio per tutti coloro che non vogliono detenere soldi all'estero per la solita storia del quadro rw si può operare tranquillamente lasciando i nostri bitcoin nostri usdt e alte cripto valute in italia collegando biz gap a the rock trading biz gap è un bot a griglia che aiuta agli utenti ad attuare praticamente la loro strategia di grid trading i bot a griglia consentono di inserire una serie di ordini sia di acquisto che di vendita all'interno di una determinata fascia di prezzo in pratica quando un ordine di vendita viene eseguito completamente il bot va a inserire immediatamente un altro ordine di acquisto a un livello di griglia inferiore e viceversa questo tipo di bot è un grande supporto per il grid trading che come abbiamo appena visto è un metodo di trading che consiste nel piazzare una serie di ordini sia di acquisto che di vendita a intervalli predefiniti attorno a un prezzo fisso questo tipo di trading funziona al meglio in un mercato con variazioni di prezzo regolari ovvero laterali viene invalidato qualora si inserisce al mercato un trend che sia realzista che sia ribassista che va a rompere le impostazioni che abbiamo dato di prezzo per far muovere le nostre griglie viz gap non è solamente un trading bot a griglia ma vi permette anche di fare arbitraggio di avere segnali e vi permette di operare in tutta sicurezza perché collegando i vostri exchange di conseguenza i wallet non fa alcun prelievo e alcun deposito movimenta solo le cripto in base alle impostazioni che noi abbiamo date questi sono i principali exchange che si possono collegare al trading bot ma oltre a quelle ne esistono più di 25 magari meno note delle più famose prima di operare con delle cripto valute quindi dei soldi veri è possibile anche registrarsi e operare con un conto demo e quello lo consiglio a tutti per fare un po di pratica e per vedere l'eventuale profittabilità registrandosi poi con il link che troverete in descrizione avrete la possibilità di provare il bot in versione pro per 14 giorni perché vi dico questo perché il servizio di beats gap è un servizio a pagamento andando nella home page e cliccando su pricing si apre questa schermata dove noi possiamo andare a vedere i piani a pagamento il piano standard costa 17 euro al mese eppure sendo standard si può iniziare ad operare in tutta tranquillità abbiamo tutte le future dedicate al piano standard tutti gli exchange si possono collegare tranquillamente e 25 mila dollari al mese come limite di trading e possiamo inoltre attivare due trading bot poi passiamo al livello avanzato dove possiamo avere tutte le caratteristiche del piano standard ma con 100 mila dollari di trading limit con 5 bot che possiamo attivare 5 bot di trading in più ci viene abilitato anche la possibilità di fare arbitraggio nella versione pro abbiamo tutte le future dei pacchetti precedenti più il trading illimitato come quantitativo di dollari barra euro radati in più 15 bot attivi la possibilità inoltre di fare arbitraggio e un supporto prioritario per chi ha delle problematiche e ha un account pro andando qua sotto vediamo tutte le future che sono incluse in qualsiasi piano ve lo lascio poi comunque tutte in descrizione così potete visionare con totale tranquillità come metodo di ripagamento accetta visa mastercard paypal bitcoin litecoin e altre 50 alt coin ma ora entriamo nel bot allora nel bot questo è come si presenta abbiamo il trading il bot i segnali l'arbitraggio il portafoglio e i miei exchange non vi preoccupate se non entro nel dettaglio di tutte queste future di tutte queste sezioni perché questo è un video panoramica poi entrano nel dettaglio nei prossimi video in tutte queste sezioni vi farò vedere anche alcune impostazioni e come sta andando il bot col mio investimento iniziale la prima cosa che notiamo è questo avviso non hai exchange collegati collega almeno un exchange come ho detto prima lavora tramite le api e quindi noi possiamo andare a collegare i nostri exchange all'interno di questo bot per fare ciò bisogna cliccare su collega almeno un exchange siamo al change collegati clicchiamo sul tasto più e come vedete qua abbiamo l'elenco degli exchange che possiamo collegare attualmente ho circa 300 dollari su by nas e quindi voglio provare collegando by nas clicco su by nas ovviamente e mi dice di andare a inserire la chiave api e la chiave segreta ma come devo fare per ottenerla mi devo spostare su by nas quindi fate l'accesso al vostro by nas se non avete neanche un conto di by nas troverete un link in descrizione per potervi registrare con il mio referral link come sempre se non avete voglia di registrarvi con un referral link registrate vi in totale autonomia una volta che avete registrato un account verificato la vostra identità col che essi per trovare le api bisogna andare su impostazioni quindi del vostro account e andare poi su gestione api arrivati a questo punto vi chiederà di creare una api quindi di nominare la vostra api in questo caso io la chiamo bit gap e o la chiave mi chiederà la verifica in due passaggi tramite codice per telefono e codice via email nella pagina successiva che non vi faccio vedere perché ci sono tutti i miei codici e le mie api troverete proprio la voce api chi è chiave segreta che andrete poi a copiare in questa schermata alla voce aggiungi 9 exchange vi chiederà le due api e come vedete in questo caso ho collegato il mio by nas dopodiché qua a fianco noi possiamo modificare dei parametri ovviamente ci sono dei parametri già standard del bot volendo potete anche lasciarli io consiglio sempre comunque di andare a operare in autonomia cliccando su strategia abbiamo i tre diversi botte il classic bot che utilizza la stessa valuta di base equivalente in ciascuna griglia per massimizzare il tuo rendimento ed è un bot un pochino vecchio vi consiglio di stare sulle s bot perché è un bot molto nuovo è aggiornato ed è stato creato per riuscire a ottimizzare i rendimenti cliccando poi su approfondici ci sono poi tutte le diversità dei bot dove potete andarli a leggere tranquillamente subito sotto andata a selezionare i vostri che change in questo caso ne uno quindi by nas sotto abbiamo ancora le coppie ne possiamo andare a selezionare tutte le coppie possibili immaginabili e valuta o usdt e voglio andare a fare trading bot con la coppia bitcoin usdt possiamo anche andare a impostare alcuni parametri e andare a fare il back test e andare a vedere con i parametri che abbiamo impostato quanto sarebbero stati i guadagni precedenti come vedete ci sarebbe stato un risultato al terzo giorno dello 0,39 per cento 0,91 per cento al settimo giorno e 3,92 per cento nell'arco dei 30 giorni poi vi fa vedere tutti i movimenti e tutte le griglie acquista e vendita che sono state toccate ovviamente adesso sto facendo una prova con 244 dollari va da sé che per utilizzare questi bot converrebbe un investimento maggiore ovviamente come dico sempre create dei vostri portafogli per ogni tipo di operazioni ovvero un portafoglio per l'investimento a lungo termine in cripto valute un portafoglio per un investimento a breve termine un portafoglio per un investimento a medio termine un portafoglio per la defi quindi un portafoglio ad alto rischio e un portafoglio se volete utilizzare sia e bot sia il copy trading così da diversificare sia i profitti che le perdite mi raccomando la diversificazione tenere separate le vostre operabilità è veramente importante inizierò con 244 dollari e andrò a iniettare successivamente nei prossimi giorni il mio portafoglio di binance con un aumento di capitale vi terrò aggiornati nei prossimi video dove vi mostrerò i segnali di arbitraggio il segnali di trading la piattaforma di trading vera e propria e tutte le altre funzioni del bot che troviamo qua sotto durante questo aggiornamento vi farò vedere anche la mia profittabilità nel caso o le mie perdite per collegare the rock trading basta andare sui miei exchange aggiungere un nuovo exchange andare a selezionare the rock trading e spostarci sul sito di riferimento a questo punto bisogna andare sulle impostazioni andare su api e andare a creare la nostra api chi facciamo crea nuova api come sempre gli diamo nome quindi io metto bit gap vado a impostare i permessi li possiamo anche impostare su binance quindi prelevare lo lasciamo disabilitato mettiamo la possibilità di fare 3d e creiamo una nuova api questo punto vedete che abbiamo solo la chiave api non abbiamo la chiave segreta per generare la chiave segreta che vi verrà mostrata solo una volta basterà cliccare sulla pk address come vedete è stato semplicissimo caricare e collegare anche the rock trading al bot big gap mi raccomando visto che droga trading fa vedere la chiave segreta solo una volta vi conviene anche copiarla e incollarla magari su degli appunti sul pc o fare una fotografia per non perderla bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento vi ringrazio per l'attenzione spero che il video vi sia stato utile vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto ad unire la nostra community telegram vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo lunedì ciao a tutti